Ecco il legno della croce, ecco il mio cuore, ecco il mio corpo, che si sarà dato per voi. Mistero della fede, non poteva inventare questo mistero, questa realtà, l'uomo lo poteva solamente rivelarlo, Dio solo, l'uomo non ha questa possibilità di donarci vita dopo la morte. La morte nell'ordine umano è l'ultima parola, la parola che viene dopo, la parola della disurrezione è solamente quella che viene da Dio. Oggi è già Cristo deposto nella croce, sepolto, e viene sigilato il suo sepolcro. E domani, in tutto il mondo, in tutto il cosmo, in tutti noi, sarà un profondo silenzio. Auguro a tutti noi di vivere sempre più profondamente, di vivere e anche di testimoniare. Annunzio vobis gaudium magnum. Abbemus papam! Sancte romane ecclesie, cardinalem poetivam. Grazie. 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 Grazie.